E oggi a Torino una giornata di formazione per diventare fornitore di agenzie europee. Un progetto regionale aiuta le imprese a partecipare ad appalti che sono spesso molto complessi. Ludovico Fontana. Un mercato che solo per le 43 agenzie dell'Unione Europea vale 35 miliardi di euro, cui si accede attraverso gare d'appalto internazionali. In Piemonte è attivo da quasi 20 anni un progetto per formare fornitori europei. Si chiama Tender, è gestito dal Centro Estero Internazionalizzazione e finanziato da quattro camere di commercio della regione. Bisogna sapersi interfacciare con queste agenzie che sono sostanzialmente come degli enti pubblici ma a carattere europeo, quindi con regole internazionali che hanno bisogno di tutta una serie di procedure e anche di modalità che sono non sempre conosciute dalle piccole e medie imprese. A Palazzo Madama una giornata di formazione ha riunito 13 agenzie europee, fra queste l'ETF, European Training Foundation, che ha sede a Torino. Siamo in un momento in cui tutto il procurement sta diventando magari non complicato ma complesso. C'è stata tutta la digitalizzazione, tutta l'intelligenza artificiale, c'è tutto il movimento su sostenibilità che per noi è fondamentale e tutto questo fa sì che le gare diventino più complesse. Sono seguite oltre 100 imprese di vari settori. Forniamo dei servizi di graphic design, di marketing, di comunicazione e quindi abbiamo seguito delle gare che hanno a che fare con servizi, soprattutto in ambito creativo. Ci danno proprio un supporto che è finalizzato alla giudicazione della gara o ci propongono anche dei partner di progetto e anche questa è un'attività molto importante. Le aggiudicazioni all'interno del progetto raggiunte nell'ultimo biennio sono state di oltre 1.700.000 euro.